Cazzo bassa, non c'è l'amico, non c'è l'amico, non c'è l'amico. C'è la Tosca, non ci posso dire. Come ha fatto Sciuola? Ma secondo me hanno fatto carica sul portiere, voglio rivedere un attimo. Non lo so, voglio rivedere. C'era uno comunque, ha segnato chi, Colombo, che si era, non ho visto. No, speriamo che vinciamo di volta per Duh, ma io non ci posso credere. Poi te l'ha fatto una parte. No, no, se... Poi. Andi ciò. Lazio, Lazio. Ciao ragazzi, dal vostro Ettoreio della Pena, al Buenai Fintosa, andiamo, sai, spagnolo. Allegria, chiamatevi a tutti voi nel calcio, il prossimo bello del mondo. Calcio d'angolo per la Lazio, vediamo. Vabbè. Viva questa palla, Lazzari, figliala. Bravo. E metterla in mezzo, dai. Ok, in mezzo, in mezzo. No, vai il cazzo, di nuovo. No, ma il cazzo. Giaccani ha pareggiato i conti, bellissima partita, molto curitata, mi aspetto volazzo finché rimuovo, sto avuto da 1 rimuovo, speriamo. Dai, risparmi a casa. Elio, tu? No, io Elio, tu? Elio, Daniele. E tu? Caprile. Daniele Caprile, fratelli. Rigore, rigore, rigore! Ma chi è? Dai zitti, dai zitti. No, no! Castigliano, se stai a fare più danni che danni, voto 5. Ho sparato i ricorsi, mi hai dato 5, 5 e mezzo, te. Ah, paura! Caputana, caputena, caputana. Cielo, Cielo, Cielo! Bravo! Vai! Il numero 9 è Pedro, Pedro, Pedro. Passo chiaramente al miglio. Piedere, Piedere. Piedere, Piedere. Prego! 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 UUUUUUUUUU UUUUUUUUUUUU EGO! 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 6 minuti del governo Madonna mia non ci posso dire Voi! 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 Manco un minuto e sono avanti Voi! Voi ci ha vinto 2 a 1 Ci vediamo al prossimo video E buonanamila ai cari di Pani